Abbiamo ideato il progetto Questo Mostro Amore che è un frutto di tutto un percorso che già in passato abbiamo fatto in collaborazione con il Pumore di Como e che prevede diverse iniziative. Prevede la produzione di uno spettacolo teatrale in cui si descrive proprio quali sono le dinamiche che intervengono all'interno di una coppia nel momento in cui scatta la violenza. Prevede interventi all'interno delle scuole, prevede questa mostra, prevede tutta, cioè noi siamo previsti questa mostra di verità, prevede tutte iniziative di carattere formativo. E' intervenuta anche la Questura, non per portarci via, ma per aiutarci, ma perché? E la Questura fornirà formazione agli insegnanti all'interno delle scuole nelle quali noi faremo il nostro intervento. E crediamo fondamentalmente in questa cosa. Noi viviamo dei tempi difficili. Io quando faccio le conferenze dico sempre che purtroppo viviamo in una società in cui l'individuo è a servizio della società. Il nostro lavoro invece è quello di fare in modo che la società sia a servizio di noi. E quello che cerchiamo di fare attraverso il teatro, attraverso la cultura, è proprio questo. Ribaltare un mondo che funziona secondo noi non troppo bene.